Questo è il giorno numero tre Buongiorno, comincia così il mercoledì, sigla Sigla Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mercoledì dove facciamo qualcosa Dove facciamo qualcosa Ci va adesso a fare qualcosa che ci piace fare molto? Colazione E poi abbiamo già l'attrezzatura, il drone per fare le riprese Oggi faremo delle riprese del borgo Quindi stradine strette, viuzze, mattoni calcare, i gessi Insomma quello che un po' contraddistingue questo posto Vi spiego in breve la situazione Mezzogiorno il sole è praticamente sopra le nostre teste Mezz'ora di riprese col drone, ho già il collo in fiamme Lui come potete notare è già rosso Ormai sto stellando in faccia C'ha l'androne in mano Android Stiamo andando verso la piazza principale che c'è una chiesa bella da filmare E faremo delle altre riprese aeree O con la barca Adesso vediamo Basta siamo fermati Fine riprese Per oggi Per ora È mezzogiorno È impossibile stare fuori a mezzogiorno Infatti il paese è tutto chiuso Tutto a casa A riposo Vabbè A dopo Io sono appena seduto Adesso aveva aperto la macchina Lui c'era il mio posto solo al sole E il suo invece va bene all'ombra Oggi ci sono Quanti c'erano? Se ieri c'erano un 36 Oggi? 82 tipo Buona roba di azienda Ma se ieri c'erano 36 gradi qua Oggi almeno sarà un 38 39 Si Forse 40 E sono le 3 Esatto Prima a mezzogiorno siamo scappati Proprio da fare le riprese e tutto Perché Era ingestibile Era ingestibile Vabbè Andiamo a fare altre riprese Si continua in questo Tour de force Tour de force Adesso andiamo alle Cave di Bauxite Si Otranto 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 Siamo quasi arrivati alle cave di Bauxite Là in fondo c'è il mare Qua sotto c'è la terra rossa Non so se si vede E niente, siamo arrivati Non c'è un filo d'ombra E quindi adesso noi ci piazzeremo Tipo nel primo albero A un chilometro di distanza con l'ombra E faremo partire il drone Che caldo oggi Ma va bene così Siamo arrivati No, c'è gente che fa il bagno Benvenuti alle cave di Bauxit Ex cave ovviamente Trasformate ora in un paradiso Naturel Guarda quanti c'è lì Ma c'è gente che fa il bagno E' spettacolare E' bellissimo Wow Trasmarco l'arico Ok, il drone Facciamo partire Qua sotto si fa nel bagnetto Benvenuti a Torre Santa Andrea Che figa C'ero neanche stato io Che figa Ho le riprese a Santa Andrea Finite E basta E si va Adesso si va Forse a mangiare una roba Buonissima Una roba forse un po' tipica E quindi si è aperto Adesso mi porterà a mangiare Torre Santa Andrea A posto Bellissimo Assolutamente Faraglioni Faraglioni E' fantastico Veramente bello E basta E Sto pensando a qualcosa di intelligente Da dire Ma qualcosa di intelligente Non ce l'ho mai Quindi ciao E' il momento del rustico Dentro eh Quindi pomodoro E besciamella Si Siamo un po' abbronzati Forse oggi Giusto le guance Mentre Paul è completamente rosso Dalla testa ai piedi E abbiamo fatto la doccia Abbiamo fatto le riprese Adesso si va a mangiare Cosa mangiamo? Pesce Oggi mangiamo pesce Eh sta arriva La bianza però La bianza però La bianza Ah le chiavi Se tu E' una volta Tieni a stu razzo Tutti russi E questo Tutto bianco Ah Finita adesso Di mangiare Abbiamo mangiato anche male Vero Ale Dove sei? Proprio male Proprio male Allora abbiamo mangiato Proprio malissimo Proviamo a ricordare Tu cos'hai mangiato? Non tartare di salmone Allo yogurt De alici E mi ricordo che cazzo c'era Io ho preso gnocchi Con calamari Vongole Gnocchi di patate Fatti a mano Una cosa Una frittura Di calamarti 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 Cozza la scogliera E vongole Veverone Io che altro Ma io vorrei capire Ma sto riso Come lo Ciao a tutti Ciao Ciao Bene Direi che la serata Volge al termine Presumo Dopo un sacco di acqua Una buonissima frittura Molta acqua Tanto pesce E Troppa acqua Troppo Poi il riso Mi sta qua Non mi va giù Niente Lasciamo la piazza Cinque ghili Cinque ghili No non si può Niente Lasciamo la piazza del paese Con la musica a balla Selezione musicale By Spezblauts Spezblauts E Ci accingiamo Verso casa Però non andremo A letto subito Ma nell'istante Nell'immediato Forse Non lo so Intanto andiamo Verso casa Poi decideremo Ci vediamo Al prossimo video Mi raccomando Intanto iscriviti Qua In questa palla tonda Cosa Qui sotto Insomma Vabbè Tu Clicca Quello che appare Tu schiaccia Tutto Fai quello che vuoi Vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti